Ho viaggiato in Italia in lungo e largo, da nord a sud, da est a ovest e all'estero sono stato in est Europa, fino al Mar Nero, dall'Italia fino alla Scozia e sempre partendo da Rezzo fino a San Pietroburgo in Russia. La bicicletta come stile di vita, un'amica con cui l'aretino Francesco Prosperi attraversa il mondo. Di chilometri ne ha percorsi tanti, anzi tantissimi, per viaggiare in modo lento e ammirare paesaggi che altrimenti andrebbero perduti. E dire che tutto era iniziato come una sfida personale. Ho iniziato alla soglia dei 40 anni e mi sono detto, quando compirò 40 anni voglio fare un viaggio di 40 giorni in bicicletta. E così ho fatto. Nel 2017 sono arrivato dall'Italia alla cima della Scozia, alle Island, pedalando per 40 giorni e festeggiando i miei 40 anni. Il viaggio più bello, probabilmente quello in Scozia, perché ho visto dei posti veramente magnifici. La tappa più difficile è forse una delle ultime che ho fatto in Russia, in cui ho avuto un po' di problemi, mi sono perso, ho rotto il raggio di una ruota, ho rotto un cerchio. Insomma è successo un po' di tutto, però me la sono cavata un po' con l'esperienza e un po' con l'aiuto delle persone che mi hanno dato una mano. Con la pandemia Francesco ha dovuto fare conti, ma non si è mai fermato. Avevo dei programmi per il 2020, volevo andare in Marocco, non ci sono potuto andare ovviamente, però sono rimasto in Italia e ho viaggiato da Arezzo fino alle Dolomiti, esplorando zone del nord Italia. Spero Valtellina, una bomba! Una bomba, una bomba! Grazie ai suoi viaggi è pure diventato un Instagrammer con oltre 100.000 follower. Un influencer? Ho aperto un account Instagram qualche anno fa, che si chiama Bikewander, in cui ripubblico le foto dei cicloviaggiatori di tutto il mondo. E' diventato abbastanza popolare perché al momento ho più di 100.000 follower. Non ci guadagno nulla da questa cosa, lo faccio per passione, però sono un influencer, nel senso che probabilmente influenzo le persone a fare questa cosa, cioè sono di ispirazione per altre persone a fare questo tipo di esperienza. Il prossimo viaggio doveva essere quest'anno dall'Italia all'Iran, però per ovvi motivi non lo potrò fare. E quindi in base a quello che si potrà fare durante questo 2021, vorrei andare o nei Balcani, a esplorare alcune zone dei Balcani che non ho visto, oppure delle parti del sud Italia, facendo cost to cost to cost, Adriatico, Ionio e Tirreno. Il suggerimento migliore per chi vuole viaggiare lento come lui? Iniziare, decidere di partire e partire, il resto è molto più facile dell'inizio.